Dal Comitato Centro Storico di Benevento arriva il plauso per i controlli organizzati dal questore di Benevento specialmente durante il fine settimana, quando i vicoli si riempiono di persone per il weekend. Bene il piano messo a punto durante le riunioni in prefettura, ma anche il comune deve fare la sua parte a cominciare dal controllo delle licenze e di altri atti amministrativi. La richiesta arriva dal Comitato del Centro Storico che torna sulla questione movida nel capoluogo Sannita. Perché non si può sempre delegare, non si può sempre dire ad un altro di fare qualcosa. Il questore egregiamente sta facendo il suo dovere, ma più che dovere anche qualcosa in più. Si vede che ha preso a cuore il nostro centro storico. Il comune che sta facendo? Gli spazi pubblici concessi, l'occupazione di suolo pubblico, viene controllata la regolarità sia della metratura, vengono controllati ad esempio la regolarità nei pagamenti. Non solo licenze, ma serve un maggiore controllo anche per le emissioni sonore, che troppo spesso creano problemi ai residenti. Il comune può fare la sua parte, in che modo? Essendo attenta al rispetto delle altre ordinanze sindacali. Prima di tutto quella relativa all'immissione sonora che non viene rispettata. Io invito il sindaco e gli organi preposti a fare un giro sabato sera e a vedere se quel sottofondo di cui si è parlato viene rispettato o se invece tanti, fin troppi, girano queste casse acustiche verso le piazze, verso le vie.